Sono soddisfatto di questo presepe? Moltissimo Ecco, cosa le è piaciuto di più? Bella scenografia sicuramente Ecco, cosa le pensa di questo presepe? No, guardi, è stata una cosa meravigliosa Complimenti a Don Emanuele, veramente Bene, cosa le pensa di questo presepe vivente? Bello, molto bello Cosa le è piaciuto di più? La rappresentazione in generale, molto bella Bene, bene, ecco Ecco, cosa le pensa di questo presepe vivente? Molto bello È stato molto bello Gli intepedi, molto bello, molto surreal Ecco, la scena del pescatore è stata molto interessante Bellissima, bellissima Ecco, la scena del pescatore è piaciuta molto? Molto, moltissimo Le è piaciuto questo presepe? Sì Cosa le pensa di questo presepe vivente? È stato un bel presepe, sono stati tutti bravi, gli attori, è ben organizzato La scena del pescatore rappresenta davvero il presepe napoletano, insomma Sì, sì, sì Lo rispecchia, insomma Sì Sì, sì, anche secondo me, complimenti agli attori Cosa le pensa di questo presepe vivente? Ah, molto bello Organizzata bene Gli attrici veramente brave Mi è piaciuto tanto Cosa mi ha colpito di più? Forse l'ultima scena L'ultima scena Ecco, per lei Cosa ne pensa di questo presepe vivente? È stato bellissimo Una bellissima serata Da cosa è stata attratta? Da tutto Grazie a tutti